Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Grazie al giro perfetto di ieri, Kimi Raikkonen parte dalla pole position, con Daniel Ricciardo a scattare dalla seconda posizione. E ora vediamo il resto della griglia. Hamilton, Vettel, Valtteri Bottas, Everstappen, Sainz, Hülkenberg, Alonso e Esteban Ocon, Grosjean, Magnussen, Pierre Gasly e Van Dorn, una Forza India, Stroll, Brandon Hartley e Sergei Sirocchi, Leclerc e Marcus Ericsson, completa la griglia. Stavolta corri sulla pista di casa del team, contiamo su di te, lascia tutti senza parole. Stavolta corri la parla Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Il distacco dalla vettura davanti è 5,5 secondi. 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 Ok, il distacco è 5,5 secondi. Il distacco dalla vettura davanti è 5,5 secondi. Le gomme sembrano in ottime condizioni, teniamole finché durano. Un distacco dalla vettura davanti è 5,5 secondi. È 5,5 secondi. Un distacco dalla vettura davanti è 5,5 secondi. È 5,5 secondi. Un distacco dalla vettura davanti è 5,5 secondi. Non abbiamo perdura di sufficienza per altri 5 giri. Attenzione, attenzione. Virtual safety car, virtual safety car. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta. Fima la bandiera verde. Ok, via libera. 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 Ok, via libero. Ok, via libera. Automata. Grazie a tutti. 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 Abbiamo carburato a sufficienza per altri due giri. Grazie a tutti. 1-6 all'ultimo giri. Grazie a tutti. 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 Ottimo. Grazie a tutti.